Pelle d'asino C'erano una volta un re, una bellissima regina ed una giovane principessa, nata dalle prime nozze della regina. Essi vivevano in un regno ricco e felice. Il re possedeva un asino con delle orecchie lunghe fino a terra, e quest'asino era molto speciale perché tutte le mattine, invece della cacca, faceva cadere sulla paglia una pioggia di monete d'oro. Un giorno la regina si ammalò gravemente e disse al re «Quando sarò morta, i ministri del regno ti diranno di trovarti un'altra moglie, perché il trono del re ha bisogno di un'erede». Il re rispose «Ma non ci penso proprio!» Ma la regina continuò «Voglio che mi prometti che la tua seconda moglie sarà più bella di me!» E il re rispose «Te lo prometto!» E così la regina soddisfatta morì. Ben presto i ministri andarono dal re e gli dissero «Sua maestà, ora dovrà trovare un'altra regina!» Allora il re rispose «Ho promesso alla regina che la mia seconda moglie sarà più bella di lei!» Appena i ministri seppero della promessa, corsero via e tornarono con tanti pacchi e pacchettini in mano che non si riusciva più a vedere la testa dei ministri e dissero al re «Ecco, sua maestà! Qui ci sono i ritratti delle principesse più belle! Ora può scegliere la futura regina!» E così il re si mise a guardare i ritratti. Erano così tanti che guardando e guardando passò più di un anno e gli vennero i capelli bianchi. Alla fine disse ai ministri «Nessuna di queste principesse è più bella della regina!» Proprio in quel momento, come un raggio di sole, entrò nel salone la figlia della regina che nel frattempo era diventata grande e bella. Appena la videro i ministri ne rimasero incantati, così dissero al re «Eccola! È lei l'unica principessa più bella della regina!» E per chiudere la questione una volta per sempre, dissero al re «Sarà lei la futura regina! Così, sua maestà potrà mantenere la promessa che ha fatto alla regina!» La principessa, che come tutte le ragazze sognava di incontrare un principe giovane e bello, sentendo quelle parole, urlò «La vostra idea non mi piace proprio per niente!» e scappò a rifugiarsi dalla madrina la fata dei biancospini. Le spiegò la promessa che il re aveva fatto alla regina e che i ministri avevano deciso di nominarla la nuova regina. Poi le chiese «Fata dei biancospini, cosa posso fare?» Allora la fata dei biancospini le rispose «Principessa!» «Vai dal re e digli che diventerai la regina solo a patto che ti regali un abito color dell'aria!» Allora la principessa andò dal re e gli disse «Facciamo un patto! Diventerò regina solo se avrò un vestito color dell'aria!» Il re, costretto dai ministri per il bene del regno ad accettare la richiesta della principessa, chiamò i più esperti tessitori del reame e disse loro «Vi ordino di cucire un abito color dell'aria!» I sarti si misero all'opera e in un battibaleno dissero «Ecco un abito impalpabile! Leggero e del color dell'aria!» La principessa diventò bianca bianca come un fantasma e corsi a chiedere aiuto alla fata dei biancospini che le disse «Principessa! Torna dal re e chiedigli un abito color della luna! Vedrai! Non lo cuciranno!» Così la principessa andò dal re e gli disse «Diventerò regina solo se avrò un bell'abito color della luna!» Ma anche questa volta in un batter d'occhio i sarti cucirono e dissero «Ecco un abito! Argentio! Come un raggio di luna!» La principessa allora si sentì mancare le forze e la fata dei biancospini le disse «Non perdere la speranza!» e aggiunse «Vai dal re e chiedigli un abito color del sole!» Allora la principessa andò di nuovo dal re e gli disse «Desidero un bell'abito color del sole! Solo se l'avrò diventerò regina!» Alla nuova richiesta della principessa tutti i sarti si misero all'opera tesserono l'abito e dissero «Ecco un abito! Dorato con oro! Fili di seta intrecciati a diamanti e rubini!» La principessa abbaiata da tutta quella luce come un gatto dai fari di una macchina esclamò «Tutto questo scintillio mi fa arrossare gli occhi!» E corse dalla fata dei biancospini La fata che era rossa rossa per la rabbia come un peperoncino piccante le disse «Il re ha superato gli ostacoli grazie alla sua ricchezza! Ma ci rimane ancora un'ultima possibilità!» «Devo chiedere ancora un altro abito?» chiese subito preoccupata la principessa e la fata dei biancospini le rispose «Questa volta chiederai la pelle dell'asino dalle lunghe orecchie che ogni mattina fa una pioggia di monete d'oro!» e aggiunse «Il regno deve a quel vecchio asino la sua fortuna! Vedrai questa volta non ti accontenteranno!» Allora la principessa si presentò dal re con la nuova richiesta ma in poco tempo portarono alla principessa la pelle dell'asino La principessa scoppiò in lacrime come un temporale tanto che la fata dei biancospini dovette aprire l'ombrello per non bagnarsi con quei goccioloni Poi la fata le disse «Non disperarti principessa! Io ti aiuterò! Mettiti addosso la pelle d'asino e scappa lontano!» e aggiunse «Prendi la mia bacchetta magica! Ogni volta che la batterai per terra ti apparirà davanti agli occhi un baule con dentro i tuoi vestiti più belli e tutti i tuoi gioielli!» La principessa allora si sporcò con la fuligine per nascondersi il viso si coprì con la pelle d'asino e scappò da una porticina segreta La mattina dopo, quando il re si accorse che la principessa era scomparsa mandò tutte le guardie a cercarla ma nessuno riuscì a trovarla La principessa intanto, nascosta sotto la pelle d'asino era arrivata fino alle porte di una città molto lontana e chiedeva alle persone che incontrava «Sto cercando un lavoro! Saprebbe qualcosa? Dove?» Ma dato che era tutta sporca e puzzava a causa della pelle d'asino che la copriva nessuno le si avvicinava finché arrivò ad una grande fattoria il caso volle che la fattoressa stesse cercando qualcuno per portare al pascolo le pecore e dar da mangiare ai maiali e così l'assunse La principessa puliva, cucinava, faceva tutti i lavori più pesanti senza mai lamentarsi Tuttavia, gli altri servitori iniziarono presto a prenderla in giro «Pelle d'asino, puzzi più di un asino! Pelle d'asino, puzzi più di un asino!» La principessa pensò «Se mi tolgo questa pelle d'asino che puzza così tanto, scopriranno chi sono!» E così, da allora, tutti la chiamarono Pelle d'asino Un giorno, la fattoressa che era buona e aveva iniziato a voler bene a Pelle d'asino la chiamò e le disse «Cara Pelle d'asino, da oggi avrai una camera tutta per te Lavori sodo e te la meriti!» Pelle d'asino ringraziò la fattoressa e pensò «Nella camera non mi vedrà nessuno!» «E potrò tirare fuori il baule con la bacchetta magica e indossare finalmente uno dei miei abiti!» «Mi mancano così tanto!» Così, quando non lavorava, Pelle d'asino si chiudeva nella camera dove nessuno poteva vederla tranne gli uccelli che volavano davanti alla finestra Finché un bel giorno, mentre Pelle d'asino si lavava e si vestiva da principessa giunse alla fattoria il principe giovane e bello del paese vicino La fattoressa accolse il principe emozionata lo portò a visitare la grande fattoria e infine gli mostrò una voliera con dei bellissimi uccelli L'uccello più bello si andò ad appollaiare sulla spalla del principe poi volò via cinguettando ed il principe lo seguì L'uccello entrò in casa e si fermò davanti alla porta in fondo al corridoio Il principe raggiunse l'uccello e si chiese «Chissà perché quest'uccello si è fermato proprio qui?» E dato che era molto curioso, provò ad aprire la porta Ma la porta non si apriva perché era chiusa da dentro Allora il principe pensò «Guarderò dal buco della serratura» Quando appoggiò l'occhio al buco della serratura Il principe vide pelle d'asino e si sentì il cuore andare a fuoco che neanche il camion dei pompieri poteva spegnere quel fuoco Allora pensò ancora «Questa ragazza è meravigliosa, sembra una regina» Così il principe tornò subito dalla fattoressa e le chiese «Chi abita nella camera in fondo al corridoio?» E la fattoressa gli rispose «È una povera ragazza che cercava lavoro Qui tutti la chiamano pelle d'asino Perché è sempre coperta da una pelle d'asino Dato che era sera, il bel principe dovette tornare al palazzo Ma da quel momento non riuscì a pensare ad altro Se non ha pelle d'asino Perse i sensi, gli venne un febbrone a 40 Non mangiava e non dormiva Allora la mamma del principe chiamò tutti i dottori più bravi Ma nessuna medicina Neanche quelli amare, amare, amare Riuscirono a guarirlo Finché un giorno un nuovo dottore disse alla mamma del principe «Questa qui, para regina, sa di strana malattia E non c'è sciroppo per curare i dispiaceri più segreti» La mamma del principe corse dal figlio e gli disse «Figlio mio, dimmi a cosa pensi in segreto E forse potrò aiutarti» Il principe pensò «Se il racconto della ragazza che ho visto alla fattoria Non mi crederanno e mi prenderanno per matto» Perciò rispose alla regina «Penso che... Mangerei una bella torta al cioccolato con la panna montata» Ma, aggiunse, deve essere fatta dalle mani di Pelle d'asino Per la fretta Dimenticò di togliersi gli anelli preziosi E andò a finire che uno degli anelli scivolò nell'impasto della torta Appena la torta fu pronta Il servo fidato partì di corsa con la torta in mano per portarla al principe E nella corsa tutta la panna montata sulla torta si agitò E così, più che una torta, arrivò un frappè Ma appena il principe vide la torta, seppur un po' ammaccata Si illuminò come una lampadina Saltò sulla torta e amm amm come un lupo affamato si la ingoiò dimenticando pure di ringraziare e di offrirne una fetta agli altri mentre il principe divorava la torta gli andò un pezzettino di traverso e tirò fuori dalla bocca un anello sottile 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 con una grossa pietra che brillava come una stella allora pensò questo anello deve essere di pelle d'asino perché risplende come lei proprio in quel momento arrivò la mamma del principe che vide l'anello e gli chiese di chi è questo anello il principe non voleva dire che l'aveva trovato nella torta così le rispose non so di chi sia ma se sapessi chi è la fanciulla che l'ha perso la sposerei sentendo quelle parole la mamma del principe scrisse un bando che diceva sono invitate a palazzo reale tutte le fanciulle che ritengano di poter infilare al dito un anello colei la quale ha un dito così sottile da riuscire ad infilarlo sarà la sposa del principe così arrivarono al palazzo reale migliaia e migliaia di ragazze a provare l'anello ma nessuna riusciva ad infilarlo il bel principe che non vedeva arrivare pelle d'asino chiese sono venute tutte il servo rispose tutte tranne pelle d'asino la regina allora ordinò subito al servo deve presentarsi anche lei appena pelle d'asino arrivò al palazzo il principe rimase senza fiato pelle d'asino si infilò subito l'anello senza sforzo fece cadere la pelle d'asino che la copriva e finalmente apparve la bellissima fanciulla con l'abito color del sole il principe allora corse in ginocchio da lei a chiedergli di sposarlo e la principessa che appena vide il principe così bello e giovane si sentì il cuore andargli a fuoco accettò da quel momento nessuno la chiamò più pelle d'asino la principessa e del principe organizzarono le nozze più belle mai viste che durarono addirittura tre settimane intere e vi partecipò anche la cara fata dei biancospini e fu grazie ai consigli della fata dei biancospini che la bella principessa insieme al principe visse per sempre felice e contenta se ti è piaciuta questa favola iscriviti al canale fiabe per bambini su youtube e clicca mi piace su facebook.com slash fiabe bambini